perché la vita aveva bisogno non potevo fermarmi aspettando l'evoluzione fu lei a fermarsi per me e in un incidente d'auto persi tutta la mia famiglia da allora la vita portò a spasso soltanto me poi lentamente l'evoluzione mi sorpassò senza tentennamenti e la mia vita schiuse finalmente i pugni perché la vita aveva bisogno che perdessi tutta la mia famiglia commento perché eri un signore di bella presenza parlavi con un tono sempre affabile dicevi buongiorno per primo e camminavi come un sovrano ma nelle tue vite non avevi mai amato nessuno no